Io non so se anche a voi sia mai capitato di impazzire dentro la guardia del vostro avversario. E ogni settimana esce una guardia nuova, ogni settimana c'è un dettaglio nuovo con cui avere a che fare. Fondamentalmente il vostro passaggio di guardia resta sempre indietro di un passo. Ecco, se anche voi vi siete sentiti in questa condizione, siete riusciti a dominare un modo per passare la guardia, e magari il vostro modo è quello più semplice, cioè semplicemente mettendo pressione, ma non siete riusciti a capirlo fino in fondo e adeguarlo alle esigenze delle guardie più moderne, dovete guardare questi video. In questi video io vi spiegherò come aprire la guardia senza alzarvi in piedi, vi spiegherò come catturare la mezza guardia, farò un'analisi super dettagliata di come liberare la gamba dall'interno e come stabilizzare la posizione. Una volta fatto questo affronteremo le guardie più moderne della Riva, l'Apple Guard e Warm Guard. Grazie a tutti.